che figata ragazzi guardate che ho comprato l'orologio gps cardio della carmin adesso sto vedendo un attimo oggi faccio il test che provo bene come funziona vedete sopra sono 19 sono i chilometri ovviamente io vedete ho fatto più chilometri però l'ho attaccato adesso per prova quindi ho 19 chilometri 38 minuti 23 e la velocità infatti vedete corrisponde adesso 21 22 e 23 ragazzi sono circa una settimana che ho comprato questo carmin for under 35 lo sto provando di nascosto quindi ancora non appare il mio nome su strava da nessuna parte comunque ecco i miei tempi questa è la corsa a piedi che però dovrò trasformare da miglia a chilometri mi hanno detto che dovrò farlo con il computer eccolo qua ragazzi finalmente l'ho comprato ecco qua il modello è questo l'ho trovato in offerta da decathlon viene di listino 199 euro io l'ho pagato mi sembra sulle 120 comunque anche su altri siti si trova a meno prezzo circa 160 comunque il prezzo più conveniente l'ho trovato su da decathlon ora ragazzi vi faccio vedere come ho preferito questo così a orologio che lo metto direttamente qua sul polso perché magari lo uso anche per correre a piedi questa è la versione carmin è una delle più economiche economiche e infatti ha tutto l'essenziale non è che ha tante cose comunque è quello che a me serve c'è va bene sia per vedete corsa sul tapirolan bicicletta cardio camminata e corsa all'aperto queste sono le funzioni che io tanto utilizzo non mi serve nient'altro vedete come è fatto a questo cinturino che appena l'ho comprato mi dava il senso che era un cinturino di poco valore invece in realtà poi dopo ho scoperto che è fatto veramente bene perché è molto robusto ed elastico che poi farò vedere perché è elastico vedete molto molto piccolino questi sono i sensori per il cardio perché questo invece viene attaccato per la ricarica della batteria io sono una settimana che sto utilizzando vedete ancora due tacche quindi vale vale veramente la batteria qua vedete ho messo sopra quel vetrino temperato che si mette per per la protezione l'ho comprata a parte su amazon mi sembra cinque euro quattro vetrini allora vedete questi tre laser qua sono per prendere le pulsazioni allora quello che io consiglio di fare che poi c'è anche scritto sul libretto di istruzione e di metterlo qua sopra dopo dopo l'osso del polso in questa maniera allora il cinturino vedete è molto elastico io l'ho provato e secondo me va messo più tirato possibile in maniera che il laser non ha spostamenti quindi una volta messo funziona veramente veramente bene ecco qua quindi io vi ho già fatto vedere le funzioni vede adesso se metto corsa all'aperto attendere adesso il gps attacca perché questo al sistema gps che si vede tutto il tracciato che noi facciamo è veramente veramente figo ragazzi per me che poi ero poco tecnologico questo un po una soluzione per per divertirmi un po più forse magari non prende perché adesso sono all'interno all'interno del mio appartamento quindi magari c'è poca linea gps comunque una volta che metto a tendere dopo dal pronti io parto e parte il cronometro poi ci sono varie regolazioni per mettere gli intervalli tutto quanto vedete avvisi magari uno metto ogni totte chilometri appare la scritta della media che fa ci sono tantissime tantissime funzionalità che alla fine io neanche utilizzerò più di tanto questo è il semplice orologio si può scegliere la schermata digitale o analogica questi sono i miei battiti adesso vedete ho 59 battiti e questa è la media riposo 52 quindi sono stanco sono stanco questi giorni perché nei giorni passati mi dava 45 43 battiti quindi ho la media alta e infatti sono un po stanco anche il programma del sonno ti dice perfettamente io sono rimasto stupito perché ragazzi veramente preciso ti dice perfettamente il sonno quante ore hai dormito vedete questi sono i passi contapassi tutto quanto ragazzi che dire adesso l'unico difetto che ho che adesso devo scaricare il programma sul computer perché regolato a miglia e quindi e quindi lo devo regolare a chilometri mi hanno detto che non si può fare né con né tramite orologio né tramite telefonino quindi direttamente direttamente con il con il computer c'è un programma che sia della carmin gratuito io l'ho scaricato dove poi andremo a vedere vi farò vedere alcune foto adesso a fine video tutto ciò che fa vedere il sonno la mappatura i chilometri è veramente completo ragazzi per uno che non vuole spendere tanto ripeto l'ho pagato sulle 120 euro ne vale ne vale veramente tutti 120 euro comunque ripeto questa è la versione un po più economica poi ho visto ci sono anche versioni che a me sinceramente non servono perché sono un po un po troppo avanzate per quello che per quello che devo fare io comunque arriva fino a un massimo di 500 euro un orologio ma quello 500 euro proprio una cosa super professionale comunque per chi vuole divertirsi e monitorare tutto l'essenziale io ve lo consiglio ripeto è una settimana che lo sto provando adesso ordinato anche una custodia in gomma tipo come il cinturino che va messa qui intorno una gomma di protezione il vetrino già l'ho messo ragazzi a me sembra veramente robusto comunque lo devo provare meglio adesso appena vedo bene come funziona tutto quanto e lo so utilizzare al cento per cento mi segnerò anche su strava a meno voi potete monitorare tutti i miei allenamenti che adesso sono allenamenti di bici di due tre volte a settimana ma andatura molto molto lenta passeggiata fino fino che non passa il 6 gennaio mi alleno così a passeggiata è un allenamento a settimana di corsa a piedi ragazzi bellissimo pollice in su sempre vedete questo quello sul programma sul telefonino noi possiamo vedere ecco qua vedete tutto il gps che ci dice gli allenamenti tutto quanto tutte le grafica la distanza la media possiamo trovare veramente tutto questo con il programma gratuito e noi abbiamo per i più esperti tutto quanto tutto tutti tutti i grafici sono il tempo del sonno ecco qua vedete qui dice che ho dormito un'ora e diciassette di sonno profondo il totale del sonno sono cinque ore e sedici di cui un'ora e diciassette profondo tre ore e cinquantanove leggero otto minuti sveglio durante il sonno dei due picchi che sono stato sono stato sveglio vedete se uno sveglio sveglio vedete se uno lo tiene attaccato 24 ore su 24 ci dice ci dice un po tutto che dire ragazzi calcoliamo che questo poi è uno dei più economici non è proprio il numero uno diciamo il migliore ecco qua vedete e adesso metto sul programma vedremo 2 dicembre alle 8 e 30 dice l'allenamento che ho fatto ovviamente io questi sono l'ho attaccato ogni tanto lo attaccavo lo staccavo per per prova vedete dal tempo di 50 minuti distanza in miglia questo devo regolare tramite computer mi dice miglia le calorie mi fa vedere tutto il percorso da viderbo fino qua monte romano questa è la media sempre miglia 21 21 velocità media sempre miglia ci dà la quota ci dà tutto quanto è veramente ragazzi vedere se uno clicca qua vedete tutto il grafico per per i più esperti ragazzi c'è veramente da divertirci vedi ok tutto tutto memorizzato e quindi questo poi magari passa anche qualche mese se vogliamo andare a vedere fare la differenza o stesso tracciato magari dopo due mesi per vedere i miglioramenti ci fa vedere tutto quanto ed è la frequenza cardiaca media la massima l'unico difetto che io ho notato qua nella prova è nella frequenza cardiaca che è un po lenta ora mi spiego meglio se io sto magari a 134 battiti e faccio uno scatto per arrivare a 163 magari io già sto dopo 200 metri magari io già sto a 163 battiti però sul sul computerino sull'orologio me lo segna circa 15 20 secondi dopo cioè che succede mi porto un altro esempio io sto andando magari a un medio a 150 battiti al minuto su una salita se a mano a mano aumento da 150 passo a 160 battiti e poi vado a 170 l'orologio lo schermo funziona perfettamente il cardio se però io faccio uno scatto da 150 a 170 magari dopo 10 secondi io già sto a 170 ma in realtà il computerino ancora segna 160 165 ha un ritardo io ho visto di 15 20 secondi magari noi già stiamo sentendo che fatichiamo già c'è la fatica però il computerino ci dice soltanto 160 battiti quindi prima che appare 170 passa passa qualche qualche secondo circa 15 20 secondi comunque ragazzi eccolo qua è veramente veramente bello veramente pratico vedete fa vedere tutti i tratti tutto quanto è veramente ottimo che dire ragazzi un bel pollicione in su per questo nuovo giocattolino che mi sono comprato vedete fa vedere tutto quanto la media di metria quindi nei prossimi video ora mi segnerò su strava quindi potete benissimo seguirmi ragazzi pollice in su sempre sempre